La nostra, forse noi non eravamo molto aggressivi dall'inizio, loro avevano ricezione doppio più più, con De Cecco, con palla in mano, è impossibile leggere soprattutto per centrali e anche per noi che siamo in posto 2, posto 4 a fare muro difesa. Questo secondo me è il primo set, abbiamo perso un po' di lucidità, ma devo dire che siamo stati sempre forti, non siamo mai entrati nel buco e siamo stati con energia, con la forza su e alla fine abbiamo provato per quinto set e abbiamo vinto e siamo stati in tenenza. Ok, quindi i media su beni mi hanno detto che il Giappone è un rivale peggiore che potevate prendere nel questo torneo. No, abbiamo giocato con tutti e abbiamo visto che è una squadra che lotta per ogni punto, sempre da quel 100% in campo per ogni punto e sono fortissimi in un muro difesa, anche se non sono altissimi. fa anche ricezione, stanno tenendo dentro 3 metri positivi, quindi noi dobbiamo secondo me essere un po' più aggressivi, come eravamo in prima partita contro loro. Vediamo, secondo me vince qui quella squadra che rimane con più energia, con più forza. Ma almeno facciamo un po' più di tempo per riposare dopo questa, perché si gioca al 20. Sì, abbiamo visto come, diciamo, calendario, come si gioca 3 giorni in fila è molto molto difficile, per questo ora andiamo a provare a riposare più presto possibile, a riprendere le forze e preparare anche tatticamente per non mangiare più per gli uomini.